Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video tutorial quest'oggi vi andrò a mostrare come scaricare la mappa The Useless Button ovvero il bottone inutile questa mappa è un minigame per la versione 1.8 di Minecraft che è ispirato a This Is Not A Map di cui ho già fatto il tutorial in precedenza appunto che lo trovate nel mio canale quindi per scaricare questa mappa vi basterà andare nel link che trovate nella descrizione che vi porterà questa pagina di minecraftmaps.com come al solito e dovete andare a cliccare su Download Map dopodiché vi aprirà questa pagina a vuoto e vi partirà il download in automatico qui in basso e vi troverete alla fine del download appunto questa cartella zippata di nome The Useless Button ovvero il nome della mappa che vi basterà poi andare ad estrarre tramite 7Zip PowerRard di cui trovate il link del download nella descrizione e dopo aver restrata la mappa dovete appunto aprire la cartella copiare questa cartella che trovate all'interno della cartella andare a fare appunto Ctrl-C e andare nella cartella di minecraft andare su %ofdata% roaming.minecraft all'interno della cartella saves incollare qui dentro la vostra mappa io ovviamente adesso già l'avevo incollata quindi andrò a fare copy-sostituisci comunque a voi non dovrebbe darvi nessun tipo di problema dopodiché andate ad aprire minecraft andate su single player andate a cercare la mappa che si chiama The Useless Button andate a fare Play Selected World e appunto come potete vedere questa è la mappa che ha appena iniziato Stepney quindi ragazzi spero che questo tutorial vi sia stato d'aiuto in caso fosse così vi vederà a lasciare un bel mi piace come vedete c'è già la resource pack personalizzata in quanto all'interno della cartella della mappa trovate questa cartella resources che appunto è la texture pack personalizzata apposita per questa mappa quindi ripeto spero che vi sia stato d'aiuto in caso fosse così vi vederà a lasciare un bel mi piace per qualsiasi problema lasciatemi un commento e cercherò di aiutarvi e noi ci becchiamo nel prossimo tutorial ciao a tutti